La richiesta era stata già espressa al primo cittadino durante uno degli incontri con la giunta itinerante tenuti a Garrano, con conseguente annuncio alla stampa dell'approvazione della variante da parte dell'ANAS ribadita in campagna elettorale. Ma a quanto pare dal 2011 ad oggi non ci sarebbero stati passi avanti, anzi, come dice il comitato di quartiere, i lavori proseguono in barba a quanto annunciato dal sindaco e non senza disagi, date le dimensioni del cantiere, che peraltro non porterà, con il progetto attuale, nessun beneficio per i residenti. Torniamo a chiedere la realizzazione di questa rotonda per permettere di attenuare i disagi, perché questa strada attraversa adesso il paese, è una variante, dapprima passava al di sotto, e attraversando il paese comunque se non realizzata in maniera da agevolare l'entrata e l'uscita, quindi come si è raccordato con la realizzazione di una rotonda proprio in mezzo al paese, va a creare disagi più che vantaggi ai residenti. Praticamente noi abbiamo il cimitero e la chiesa di Garrano da una parte e dall'altra e non potremmo più agevolmente passare da una parte all'altra del paese, fare quello che prima facevamo con 20 metri praticamente, perché la strada era al di sotto, noi avevamo la strada statale che passava al di sotto, adesso passa in mezzo al paese. Per attraversare adesso dovremmo prendere un veicolo e fare proprio dei chilometri di strada, non con un attraversamento pedonale, grave è anche il fatto che se c'è un autobus che si ferma, la persona a piedi dove passa, con una strada prende a guardia le altissime, non c'è un attraversamento, noi abbiamo dei disagi, e quindi vogliamo trasformare, come si era detto nell'incontro e ribadito in giunta in generante e in campagna elettorale, vogliamo trasformare questa strada da un danno in una risorsa e per la frazione. Comunque fino a oggi nulla, speriamo e chiediamo un incontro risolutivo con il sindaco dell'ANAS.